Al minimo puoi lavorare un po'. Prova? Un attimo, un attimo. Questo è il sottocarro. Come l'escavatore grande, non abbiamo cambiato niente. La parte in fusione qui non l'abbiamo sulle 38. L'avventaggio è che viene un po' più di peso nella parte bassa della macchina e allora la stabilità è ammigliorata. Abbiamo conservato questa per protettare il motore della stazione.